Noi parliamo degli orti digitali della Campania, gli orti che diventano digitali. Il progetto si chiama Nonnet, è un'iniziativa di lega ambiente e di mondo digitale in Campania, precisamente a Ponte Cagnano, Eboli e Succivo. Nei tanti orti assegnati gratuitamente nella regione, i pensionati mostreranno ai ragazzi i metodi di coltivazione di una volta, i metodi biologici, e in cambio i ragazzi insegneranno ai nonni l'ABC del computer. Era l'ultima segnalazione, noi continuiamo a raccoglierne, mandateci le vostre email, anche con foto e video, per aiutarci a costruire questo piccolo telegiornale dell'ambiente. Alla prossima volta!